La sindaca Cecilia Francese fa il punto della situazione sulla questione Alba ad una settimana dal nuovo incontro con i sindacati che dovrebbe chiudere definitivamente la crisi con l'amministrazione comunale. L'attesa in particolare è per la proposta che il 12 luglio presenteranno le sigle sindacali che si sono impegnate a formulare un nuovo piano per uscire dallo stallo. Voglio fare solo una premessa. Alba è fallita. Ha chiuso quest'anno con un bilancio negativo, quindi è fallita. Siccome quest'anno a breve, se non interveniamo con una ricapitalizzazione, abbiamo tre anni consecutivi e quindi la chiusura definitiva, c'è la necessità da parte dell'amministrazione per evitare di mettere in mezzo a una strada, di far perdere il posto di lavoro in una situazione contingente che è quella che è circa 115 famiglie, c'è quella di intervenire e di ricapitalizzare. Questa amministrazione ha cercato dall'inizio con tutte le forze di trovare una voce in bilancio, nonostante le nostre difficoltà economiche, di trovare un milione e mezzo per poter ricapitalizzare questa azienda. L'altro giorno c'è stata una riunione molto pacata, ringrazio i regionali che sono intervenuti, dove oltre a quel piano che loro prevedevano, i 270 mila euro che avevamo detto che non era sufficiente, fanno una serie di possibilità di proposte, molto partendo dal fatto che persone vanno in pensione. Però il neo di questa proposta potrebbe essere il fatto che se tu con queste unità operative non riesci a coprire tutta la superficie, tutto il paese, andando in pensione a altre persone ovviamente stai peggio perché quello che si è detto è che la città è sporca, il servizio è quello che è e che quindi la gente paga anche abbastanza la tassa, quindi di mettere mano a qualcosa di efficiente. Per cui nel momento in cui vanno in pensione le persone, noi abbiamo la necessità di prendere eventualmente con interinali, perché non possiamo assumere, insomma Alba segue le stesse sorti del comune, altre unità per poter garantire una città pulita. Hanno fatto una serie di proposte, per cui quello siamo rimasti d'accordo che ci rivediamo il 12, dove praticamente loro devono mettere nero su bianco quali sono le loro proposte perché noi poi dobbiamo farle vedere ai nostri dirigenti ma soprattutto ai revisori dei conti che hanno dato parevole e favorevole al nostro bilancio in virtù di questo piano di ristrutturazione della società. Per cui queste cose passano anche da organi sovracomunali, perché se tu ricapitalizzi e poi non è sostenibile i consiglieri comunali devono rimetterci un milione e mezzo, quindi anche loro vogliono la loro garanzia. Per cui loro stanno preparando questa nuova ipotesi di rientro economico che faremo vagliare ai nostri dirigenti e revisioni dei conti se daranno l'ok. Questa cosa si può fare e ovviamente dobbiamo garantire che i consiglieri comunali vengano in consiglio e votino questa cosa in maniera serena. Quindi speriamo che il loro piano sia un piano sostenibile.